Sono contentissimo per il risultato, per i ragazzi, per la dirigenza, per Giorgio. Quando scegliamo questa cordata, un anno e mezzo fa, in molti erano stati scettici, giustamente, Rimini, la città, come tutte le città, poi il calcio è qualcosa che batte un po' sulla pancia dei cittadini, quindi la scelta fu anche contestata, giustamente. Noi oggi possiamo dire che quella scelta fu una scelta giusta. Non c'è assolutamente il merito nostro, noi abbiamo fatto la scelta, poi il merito e la bravura è stata tutta dei ragazzi, dei dirigenti, degli allenatori e di Giorgio Grassi, quindi noi non possiamo che dire grazie. Questo grazie si allaccia ad un altro discorso che è quello che adesso, questo progetto, che è un progetto serio, un progetto della città di Rimini, deve trovare dei compagni di viaggio. Noi lanciamo un appello, però in questo caso io credo che sia un appello che non deve andare nel vuoto per un semplice motivo, perché questo è un progetto veramente serio, veramente che ha delle basi solide, ci sono delle persone per bene, prima che dei grandi sportivi, e quindi io credo che troveremo dei valorosi compagni di viaggio.